Commento al Vangelo di mercoledì 26 ottobre 2022, a cura di Don Vincenzo Marinelli. Voi invece cacciati fuori. Quando si affronta un esame o ci si prepara insieme ad affrontare una prova, si resta male se si viene bocciati o esclusi dal concorso mentre gli altri sono riusciti a passare. Oltre al fatto in sé di non averlo superato, il dispiacere aumenta anche nel vedere chi invece ci è riuscito, magari nonostante avesse qualche deficit o delle risorse inferiori per superare la prova. Gesù dice che vedersi precluso l'ingresso nel regno dei cieli mentre vedremo che altri, a noi ben noti, si sono salvati, sarà un vero e proprio strazio che ci getterà nella disperazione più totale. Come sempre la parola del Vangelo è una parola di speranza che ci esorta a guardare al presente e al nostro futuro con responsabilità e per questo ci induce ad immaginare realmente l'ipotesi di non potersi salvare, di accedere ad un'eternità non beata, ma di dannazione. Allora comincia a guardare sin dal presente a quelli che fanno del bene e si sforzano di seguire Cristo e a quelli che lo hanno già fatto. Documentati sulla vita degli uomini che oggi sono riconosciuti santi, leggi le prove che hanno affrontato e come sono rimasti fedeli. Immagina che un domani potrai vedere i tuoi stessi amici e familiari in cielo, ma non è detto che sarai insieme con loro.